...arriverà davanti. A questo punto, sempre con la maschera, diciamo assieme la mononota. Questa, continuata. L'azione durerà più o meno un minuto. A seguire, il baule rosso, a ricordo a memoria di chi ci ha lasciato in questi mesi, avanzerà verso la prima fila. Rimaniamo con la mononota e con la maschera. Il segnale successivo ci porterà ai 365 giorni passati, i primi 365. Continuiamo con la maschera e con la mononota. Davanti a voi ci sarà un responsabile BIP in una posizione sopraelevata che vi scandirà i tempi e i moni con le braccia. Arrivati al 365, battiamo prima il colpo sul baule e tutti assieme con la maschera diciamo, urliamo, 365. Ci togliamo la maschera. Da qua in poi, sempre al segnale, contiamo i numeri dal 366 al 419, uno per uno. Prima a battere il colpo sul baule e a seguire dico il numero. Arrivati al 419 rimaniamo, perché il nuovo striscione dall'avanti andrà indietro. Vedrete un drone al centro davanti a voi, guardatelo in modo che il governo ci veda, bene dritti in faccia e bene negli occhi. Il drone scavalcherà l'obelischio e andrà in fondo per presentare la fotografia finale. Grazie.